Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Grazie per la visione! La prima domanda è la più semplice probabilmente, o la più complicata, dipende come la vedi. In questo caso la faccio direttamente a te. Chi sei? Allora, Alessio Mieli, frontman del gruppo The Shadows, anzi presentò anche gli altri che non ci sono. Gabriele Foti, basso, Federico Perfumi, batteria, Federico Rondolini, chitarasolista. Siamo quattro, questa è la formazione. Siamo un gruppo rock prog che di questi tempi è strano, lo so, però io ce l'ho sempre avuto dentro comunque questo genere. Non lo so perché, però è così. Non lo so, dimmi tu le domande. Sto commentando come nasce il nome, perché poi abbiamo visto anche il logo, anche il logo, prima il nome, poi come nasce quel logo. Ok, allora, il nome viene da una divinità babilonese, lo Shedu si chiama. In pratica per loro erano i protettori delle case e mettevano questi totem fuori dalla porta, così non facevano entrare gli spiriti cattivi, venivano più protetti da loro. Noi ci sentiamo un po' così, che siamo vicini alla gente dal punto di vista sociale, perché comunque i nostri testi parlano del sociale e dell'ambiente anche. E ci sentiamo un po' vicini, quindi abbiamo pensato allo Shedu. E poi De è l'articolo, De Shedous infatti, però in francese, quindi è tutto attaccato. Questo è il nome. Il logo come nasce questa faccia? Guarda, il logo, cioè non è che c'è stata una cosa, cioè un'amica ha fatto una faccia, io ho detto lo sai che è bella questa faccia per il logo. Poi l'ha comunque fatto meglio, l'ha sfinato e è nata questa faccia così, un po' psichedelica, perché io comunque live, cioè tu mi vedi così gentile, però in realtà io sul palco mi trasformo, sono pazzo un po', e quindi quella faccia è un po' così. E allora parliamo andando dell'ultimo brano che abbiamo sentito. Hai visto quelle facce? Come nasce l'idea di questo brano? Da cosa vede tratto l'ispirazione? E poi dopo parleremo anche del video. Lady Butterfly nasce insieme al nostro produttore Mauro Paoluzzi, che ci ha seguito sempre dall'inizio. Cercavamo una cosa comunque che desse un po' di speranza per questo periodo, perché comunque per tutti è un periodo strano. Infatti Lady Butterfly è un po' la speranza che qualcuno venga a portarci via dai guai, che poi noi aspettiamo sempre come il Messia. Faccio un esempio pratico e leggiamo un nuovo presidente. Speriamo che lui cambi qualcosa e poi ci accorgiamo che magari non cambia nulla nelle cose nostre che vorremmo. E quindi si ripete sempre questo loop e noi siamo sempre nella speranza che qua cambi qualcosa. E appunto le pecore abbiamo usato per il video, perché è questo loop che gira sempre, è un girotondo di pecore. Infatti abbiamo visto un video che chiaramente è divertente. Poi ho utilizzato il bianco e il nero. Sì, perché ci siamo rifatti ai video dei Beatles anni 60 comunque, che però ha anche delle botte di colore che sono psichedeliche, quindi è un misto tra Pink Floyd e Beatles un po', con la scena beat del periodo. Sali, qualche tuo collega, piccolo e grande, mi ha detto quando sto per salire sul palco inizialmente mi viene in mente ma perché lo faccio? Poi quando salgo sul palco comprendo il motivo. No, per me, cioè io non vedo l'ora in realtà ogni volta, perché a me piace suonare, molto mi piace. Infatti non vedo l'ora di salire. Certo c'è sempre quel nervosismo prima, però quello è costruttivo perché poi ti tira fuori tutto dopo. Però io comunque non vedo l'ora di trasmettere emozioni perché è lavoro nostro questo, trasmettere emozioni, se non lo facciamo noi bene. Infatti l'altra domanda si collegava, le sensazioni che provi quando vedi sotto il palco gente che inizialmente è silenziosa, a volte il silenzio che parla, però poi comincia a piangere, a ridere, a ballare, cioè non sta ferma e cercano in te quelle emozioni che tu poi fai tue. Sì, esatto, cioè io incanalo quello che danno comunque, cioè io e anche i ragazzi comunque. Sì, è una bella sensazione, è come uno, cioè io credo che la musica sia in mezzo, uno dei mezzi più importanti di unione tra noi esseri umani comunque. Cioè la musica riunisce sempre tutti, possiamo provare la stessa cosa nella stessa stanza comunque tramite la musica e questa è una cosa bellissima. È vero che la musica ogni volta che suoni ha un impatto diverso perché non è un disco ma vive di vita propria e quindi ovviamente ogni volta che la suoni hai quella sensazione di averla suonata molto diversamente, anche perché di fronte non c'è la stessa persona. Eh no, infatti devi stare attento a tutti i tipi di pubblico perché ogni paese ha il pubblico suo comunque, quindi devi stare sempre attento a quello che fai così. Però comunque in generale basta essere se stessi così poi se non piace non piace, se piace piace. Però l'importante è rimanere coerenti con se stessi e tu stai bene sempre, capito? Questo è. Se potessi salire su un palco prendendo un bussante e trovarti in un concerto, indifferentemente dal tempo e dello spazio, e salire con una band e suonare con quella band, a fianco a quella band, un brano vostro, con chi ti piacerebbe suonare? Eh, ce ne stanno tanti, vabbè, tutti esteri perché io mi faccio molto di VinFloid, a me piacerebbe suonare insieme a Roger Waters, però questa è fantascienza pura, però mi piacerebbe molto lui, anche insieme ai Goldplay, è un gruppo enorme, bravissimi. Io li stimo tanto perché loro durante l'epoca hanno sempre cambiato così, in base a quello che andava comunque, però sempre rimanendo nel loro mood. Quindi loro sperimentano e continuano sempre a stupire, questa cosa è da fargliene proprio chapeau. Adesso il prossimo brano di che cosa tratterà? Non sappiamo qual è il prossimo brano, ancora. Stiamo lavorando a un app in inglese, che vabbè, vediamo un po' che succede, insomma. Però per il momento ci concentriamo su Lady Butterfly e sul nostro disco Il Brigante, che è già uscito. Quelli che ti ascoltano sotto il palco, a un certo punto, finito il concerto, te le domande più strane o tre richieste più strane che ti hanno fatto. Qual è secondo te? Ah, non ci sono state molte richieste strane in realtà, cioè più che complimenti o non complimenti, comunque, fino adesso non mi è capitata una cosa strana, sinceramente. Solo gente che si congratulava, tra l'altro anche persone importanti, tipo Andy dei Blu Vertigo, noi abbiamo collaborato perché la copertina che vedo a destra, quella gialla, l'ha fatta lui, la grafica. Quindi noi abbiamo anche collaborato con lui. No, però in generale abbiamo ricevuto complimenti più che altro, però la cosa è strana è no. L'altra domanda era le collaborazioni solo con Andy per ora? O c'è qualche idea di Andy, di collaborazione? Guarda, noi stiamo organizzando uno showcase a Milano, che sta organizzando l'ufficio stampa, non so dove sarà, a fine ottobre, inizio novembre penso. E lì stiamo cercando di coinvolgere un nome importante che ancora non posso dire perché non sono certo, però comunque è un nome importante. L'idea del vostro gruppo ciò non siamo fatti, ma l'idea quando vi siete uniti insieme avete detto oggi facciamo il gruppo, uniamoci, ma mentalmente eravate tutti sani? Sì, allora diciamo è partita da me la cosa comunque, perché io ho fatto il provino con Mauro Paoluzzi, il nostro produttore all'inizio, e io stavo da solo. Poi comunque io volevo fare il gruppo, quindi con Mauro ci siamo messi a cercare i membri, io ho visto tutte persone vicino Mentana, così dove sto io. Intanto il batterista si è unito perché è un mio vecchio amico comunque che ci conosciamo da quando eravamo piccoli, Federico Perfumi, e poi dopo è venuto Gabriele Foti, che io ho chiamato tramite il mio maestro di chitarra al primo, e Gabriele conosceva il chitarrista, quindi c'è stato tutto un giro d'amicizie che ci ha portato a unirci. Adesso stiamo anche abbastanza in armonia comunque, pensiamo le stesse cose, il mood c'è, stiamo tutti sul pezzo. Quindi possiamo dire che mentalmente siete tutti sani? Sì, 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 diciamo sì. Sul palco non posso dirlo, però fuori sì. Già sul palco è un altro mondo. Esatto. Il palco, la quarta platea, è un altro mondo. Il disco sarà soltanto in digitale o anche vinile e cd? Il disco è già uscito in vinile, il Brigante, e in digitale. Quindi in realtà le persone lo possono già trovare perché è uscito un anno fa, il disco. E' uscito con l'occasione del nostro concerto, il cineconcerto olografico del Brigante, appunto, dove c'era il concept completo. Abbiamo fatto un live proprio alla Pink Floyd, cioè che inizia e finisce senza interruzioni. Cioè era tutto conseguenziale, con immagini sciocche dell'ambiente, delle situazioni sociali dell'uomo comunque. E' stato molto innovativo questo cineconcerto, è stata la prima volta che si è fatta nel mondo. L'abbiamo scoperto dopo poi. Infatti ci ha sorpreso questo cineconcerto olografico. È stata un'esperienza bellissima. E l'abbiamo fatto a Roma, a Cinecittà World, il parco divertimenti. Ci puoi parlare del Brigante? Perché visto che l'abbiamo citato tante volte, ma non l'abbiamo mai trattato in realtà. Sì, sì. Allora, il concetto generale dell'album Il Brigante è che Il Brigante rappresenta l'uomo. Cioè tu immagina questa figura che vive in montagna isolato, in alto quindi, che può controllare tutti quelli sotto. C'è tutto sotto controllo. Che lui sa di fare del male, persevera però per i suoi obiettivi. Quindi fa del male, ma continua a fare quello che vuole fare, nonostante crei molti disagi. Però continua, perché comunque Il Brigante è un mezzo criminale. Cioè è un criminale, non è... E questo rappresenta un po' le cose che fa l'uomo in generale. E tutto il concept percorre appunto i problemi sia sociali che ambientali. E mettiamo a crudo tutte le conseguenze del comportamento dell'uomo. Questa è la sostanza. Che rapporto hai con videogiochi? Eh, io ci ho sempre giocato in realtà, da piccolo anche. Guarda, mi piace molto il computer come piattaforma. Perché comunque posso aggiustarmi come vale della grafica, le cose, no? Invece le console sono limitanti. Anche se a certe esclusive ce l'hai però. Mi piace molto la Nintendo poi. Infatti ho comprato la Switch subito. Con Pokémon, subito. Questi sono una bende formata da chitarra, basso, batteria, stile e voce. E chitarra, cioè pure io faccio la chitarra. Sì, quindi siete chitarra. Cioè gli suoi metri sono la chitarra basso, batteria. Sì. Siete pochi gruppi in realtà che fanno questo genere. Ricordiamo i dot e i chili pepper. Perché altri, comunque una tastiera o a livello elettronico ce le inseriscono. Ricordiamo tanti altri gruppi, i rock. Comunque una tastiera c'è sempre. Ma vabbè, ce l'abbiamo anche noi, eh. Perché noi siamo accoppiati alle sequenze che mandiamo dal computer. Quindi, infatti in futuro si stava pensando un tastierista che facesse quelle atmosfere. perché comunque il Progressive richiede atmosfere del genere. Però per adesso stiamo così. Cioè comunque noi sogniamo accoppiati a quelle atmosfere. Però i strumenti quelli sono. L'ultima cosa, nel gruppo del passato c'è qualche gruppo che ti ha ispirato e ti ha dato la possibilità? Oltre a, abbiamo capito, i Pink Floyd. Ah, tantissimi. Anche i Foo Fighters, eh. Io vedo ultimamente. I Coldplay, i, oddio. Adesso ci sto elenco a tutti. Non lo so, pure Nirvana. Cioè, ma da tanti generi diversi. Non lo so, pure, che ne stavo volendo? Anche Frank Zappa mi può ispirare. Qualsiasi cosa che sento. Perché io sento molte cose. E magari da un, non lo so, un pezzo di canzone. Non lo so, pure una melodia piccola. A me ne nasce un mondo. I King Crimson. Ce ne stanno tanti. E potrei fare un elenco lungo anni. Un chitarrista a cui ti sei ispirato. Comunque ti ha dato quell'emozione particolare. Quale, scusa? Un chitarrista che ti ha dato emozioni. Ah, un chitarrista. A me piace molto Gilmore, come fa gli assoli. Infatti, non a caso, è nella top ten dei chitarristi più forti del mondo. Perché comunque lui fa, quando fa gli assoli, fa delle frasi che le canti tutte. Cioè, tu da solo lo memorizzi tutto. Quello è importantissimo. Lo canti, in pratica. È una melodia a parte col canto. E l'ultima cosa. Nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure prima basate alla metrica, al senso sonoro della musica, poi inserite le parole? No, noi sempre prima la musica. Allora, il metodo mio è faccio voce chitarra a una melodia, con gli accordi, poi faccio la base con inglese maccheronico, così, senza senso, tutte così, e poi rispettiamo il suono e lo portiamo in italiano. Perfetto. Noi ti ringraziamo veramente tanto. Grazie a te. Ricordiamo che il nuovo singolo in uscita è uscito e si può ascoltare in digitale. Solo digitale per adesso. Digitale su Spotify e poi c'è il video su YouTube, comunque, che lo trova nel nostro canale The Shadows, oltre a tutte le pagine che abbiamo, Facebook e Instagram. Quindi, ricordiamo tutte le pagine che c'è di Facebook e Instagram, ci dici gli indirizzi? Allora, basta che c'è... Allora, su Facebook è The Shadows Official, su Instagram è The Shadows e su YouTube è The Shadows Official e lì trovano tutto a disposizione. Poi su Spotify The Shadows o qualsiasi piattaforma sia, comunque, di digitale. Bene, allora ci fai dando i saluti? Certo. Ciao. Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità. Mi è piaciuta questa intervista, è un po' rispetto alle altre, è più personale. Mi è piaciuta. Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Vola, viola, 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 va viola che scompare nell'oscurità. benvenuta e riparte frai, benvenuta e riparte frai, sì, noi siamo nerd. Va bene, fa sempre bene comunque. Un lato nerd c'è. Un consiglio te lo do, guarda, un consiglio te lo posso dare. prova a fare musiche per videogiochi, soprattutto quelli adesso, quelli che vanno di moda, sono combattimenti. La musica e i videogiochi vengono ricordate più facilmente. Ricordiamo i Blur. perché mentre giochi, sì, i Blur, sì. I Blur, ma tanti altri. Con FIFA siamo cresciuti con rock di tanti gruppi. È vero, sì, perché a FIFA le mettono nel menu in scaletta proprio. Quindi, provate a fare, oppure le anime giapponesi. Ascoltate le anime giapponesi, visto che loro utilizzano molto rock. Loro, anzi, è anche fuori dal genere nostro, perché io sento molto speed metal in quello che fanno. Sì, infatti, sono cattivi. Sono fortissimi, per carità. ti consigliamo One Punch Man, perché è il nostro film. Me l'hanno già consigliato, infatti lo devo vedere. Quindi, One Punch Man, con la musica, poi sono cattivi. Quello della seconda stagione, è un troppo cattivo. va bene. Kenny Guerrero, questi nascono tutti. Sì, sì, sì. Benissimo, allora, come, come nei conteggi finali, io ti do tre secondi, così ti disconnetto. Così, ci diamo, tre, due, uno, buona serata. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta, l'intervista di Pietro. Viola che scompare nell'oscurità. Benvenuta a Lady Butterfly, Benvenuta a Lady Butterfly, Yeah!